non temere giuseppe tutto viene da dio e maria tua sposa darà alla luce il figlio di dio il salvatore del mondo e questo il messaggio accolto da giuseppe che pur avendo avuto momenti di crisi ed incertezze è stato perseverante nella fede in dio impariamo da lui a ricevere gesù a braccia aperte e a metterci sempre al suo servizio chiediamo oggi per intercessione di maria la perseveranza e la costanza di giuseppe affinché il suo esempio ci incoraggi a fidarci di dio soprattutto nei momenti di dubbio e incertezza